Ha vinto subito alla guida dell'Umano Rea in Venezia il titolo di campione d'Italia in basket maschile, Walter Nerafredo. E' stato intanto il frutto di una programmazione di un club che in tanti anni ha fatto della politica di piccoli passi, della programmazione la base per poter crescere. Questa è la mia ottava stagione a Venezia, sono molto contento di questo premio ma soprattutto contento di questo scudetto perché mancava a Venezia da 74 anni, quindi anche rivedere le immagini con i festeggiamenti in canale grande è qualcosa che rimarrà nella mia testa per sempre. Ci siamo usciti forse certamente con grande qualità da parte dei giocatori perché senza non si riesce a fare niente, l'allenatore è soltanto la guida, non si riesce a fare niente senza uno staff che lavora, senza un club che ti supporta. Sicuramente ci siamo usciti perché tutte queste componenti hanno sempre remato dalla stessa parte, non certo dopo le vittorie ma che è molto semplice gestirle ma soprattutto dopo le sconfitte quando tutti vengono a tagliate dal panico e sembra che perdere sia la fine del mondo. Credo che stasera la dimostrazione sia invece che la cosa importante è riuscire sempre a rialzarsi, andare avanti, noi abbiamo avuto la bravura e naturalmente anche la fortuna di vincere questo grande titolo che rimarrà nel nostro cuore e nella nostra testa per sempre.